Nuovo piano tariffario e altra spinosa questione per l'Assemblea Territoriale Idrica. Il sinaco di Sciacca Francesca Valenti ha ieri presieduto una riunione del Consiglio Direttivo nella sua qualità di Presidente dell'ATI con al centro proprio la questione delle tariffe per il periodo 2018-2020. Un momento importante, commenta Francesca Valenti. L'ATI ha il lavoro per rinnovare il piano tariffario e ieri si è avuto un confronto con i tecnici incaricati dall'Assemblea per definire proprio le nuove tariffe. La direzione tracciata è quella della riduzione. Una buona notizia, avrebbe da dire, per gli utenti dei comuni agrigentini che dipendono da gergenti acque e che in questi anni, rispetto al resto dei comuni che continuano invece a gestire direttamente le proprie risorse, ha visto lievitare non poco il costo dell'acqua. Solo lo scorso anno si è registrato una lieve riduzione della tariffa. L'ATI, Assemblea Territoriale Idrica, della quale fanno parte i sindaci rispetto al lato, ha voluto dare un piccolo segnale rispetto alle precedenti tariffe. Al di là delle polemiche legate alla gestione privata del servizio idrico integrato, quella dei costi dell'acqua in provincia di Agrigento è stata la vera questione, mai affrontata adeguatamente. Basti pensare che dal 2008, sia dall'inizio della gestione di gergenti acque, sono state applicate in via transitoria le tariffe determinate dal precedente gestore, ossia l'EAS, e fino al 2011. L'ATO, ma anche i sindaci dei comuni agrigentini, hanno rinviato fin quando hanno potuto la questione delle tariffe, sicuramente impopolare. Si è preferito delegare l'ATO, successivamente commissariato, che soltanto nel 2012-2013 ha approvato il piano tariffario, un vero salasso per gli utenti agrigentini. Si arriva così al piano tariffario approvato invece nel 2017 dall'ATI, presieduto da Enzo Lotà, con i sindaci che, esposti alle proprie responsabilità, hanno cercato di operare una lieve diminuzione. Adesso si vuole fare di più, anche perché la questione delle tariffe si interseca ora con il processo di risoluzione del contratto con gergenti acque. Calmerare le tariffe è la parola d'ordine dell'Assemblea Territoriale Idrica, presieduta da alcuni mesi dal sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. C'è da capire se e in che misura l'obiettivo sarà raggiunto in quella che ormai è una guerra aperta tra ati e gergenti acque. Grazie. Grazie. Grazie.